E allora quando mi dicono qual è la cosa che tu proporresti? Beh, io penso che oggi noi abbiamo bisogno di un vero new deal per l'uomo nell'era digitale. New deal. E qui c'è un'altra parola che dovete tenere in testa e concludo, che è la paura. La paura è una malattia, ma la negazione della paura è una malattia, allo stesso modo. Non dare legittimità alla paura e non affrontarla è uguale a essere in balia delle paure, perché è una forma di negazione, allo stesso modo. Tutti quanti, da Renzi a Di Maio, quindi veramente tutti quanti, citano una frase di Roosevelt famosa che è l'unica cosa di cui avere paura è la paura stessa, che è una bellissima frase. Quello che non si ricordano, mai, perché ovviamente l'hanno letto su Wikipedia, non si sono andati a leggere il discorso che Roosevelt ha fatto di insediamento Disastro dell'America, una crisi da cui non si riusciva a uscire, disperazione Loro pensavano di aver sconfitto la povertà, oddio, mi ricorda qualcosa Pensavano di aver risolto i problemi della crescita, a un certo punto li colpisce una depressione da cui non riescono a uscire. A un certo punto, dopo tutti i tentativi possibili, viene eletto Roosevelt che fa questo discorso e inizia così. Ma poi dice, e io chiederò poteri straordinari al congresso, come se un nemico straniero fosse arrivato sulle spiagge dell'America e questo nemico è la povertà. Allora io dico ai progressisti che quando noi diciamo l'unica cosa di cui aver paura è la paura stessa questo secondo pezzo ce lo siamo dimenticato e senza questo secondo pezzo quella frase di Roosevelt è uno slogan non è una rassicurazione e quando io dico che ci vuole un New Deal e Roosevelt fece uscire l'America dando lavoro dandogli proprio la pala e il piccone facendogli scavare i canali i nostri canali oggi sono la cultura noi abbiamo bisogno di fare una cosa crescere il figlio di una famiglia disagiata di Pomigliano d'Arco come il figlio di un grande borghese di Milano e questo è compito dello Stato lo Stato deve finanziare, aiutare lo Stato deve prendere e fare tempo pieno in tutte le scuole perché i nostri figli non leggono più nulla deve ritornare a insegnare una gerarchia sana tale per cui le famiglie devono stare lontane 15 milioni di chilometri dalle scuole noi siamo in un posto in cui i genitori fanno ricorso al TAR sulle votazioni dei figli è il principio della disgregazione della società i genitori devono occuparsi di fare i genitori e Dio Sasset è già molto molto difficile il punto è che c'è una pancia del paese profondissima profondissima che ha paura e qui non abbiamo dato risposta e qui abbiamo anzi insultato le paure in generale non la paura dei migranti sto parlando della paura economica la paura del futuro la paura dell'innovazione tecnologica la paura della diversità non gli abbiamo fornito i mezzi culturali abbiamo preteso di dirgli si fa così e basta e adesso dobbiamo recuperare tutto questo velocissimamente e le elezioni europee sono elezioni importanti io qui non voglio fare un discorso politico perché non è la sede giusta però voglio dire una cosa quando la storia torna ed è tornata in occidente e nel cuore dell'Europa succedono un sacco di cose brutte si sta meglio senza storia c'è una cosa due cose che sono belle primo si ricomincia a pensare perché prima in fondo noi pensavamo molto poco molto meno qual è il modello giusto? come funziona? come gestiamo questo problema complesso? come ce lo dobbiamo porre? e se finisce il lavoro come lo gestiamo alla fine del lavoro? e se finisce il lavoro e tutti prendono un reddito di cittadinanza come gestiamo la democrazia? sono tutte cose che per la prima volta sono questioni grandi e la seconda cosa è che quando la storia torna torna il desiderio di impegnarsi noi abbiamo ci lamentiamo sempre che i giovani non si impegnino ma signori negli ultimi 30 anni abbiamo discusso di politica su quale politica fiscale era meglio cioè la differenza tra destra, sinistra e centro era se facevo o levavo le tasse sulla casa o le tasse sulle imprese ma voi pensate possibile che una giovane si appassioni a questo? e adesso non è più così la questione è molto più profonda e sì io credo che qui c'è lo spazio per tornare a impegnarsi e comunque la si pensi se non ci impegniamo le persone che quello che abbiamo conquistato è quello che dobbiamo fare sentono come un'impellente necessità etica beh, se non ci impegniamo veniamo travolti perché vedete la nostra classe dirigente in larga parte è una classe dirigente che io chiamo la classe dirigente della grande bellezza non so se qualcuno di voi ha visto il film di Sorrentino cioè una classe dirigente che è animata da cinismo perché in questi trent'anni è stata ogni volta sconfitta e quindi il fatto che Roma bruci tra virgolette è un bello spettacolo da una terrazza la passione non riesce più a rianimare quando uno è appassionato anzi è guardato con sospetto ve la ricordate quella orrenda battuta dell'avvocato Agnelli quando diceva l'amore è solo per le cameriere che è forse la cosa più brutta che abbia detto dopo averne dette parecchie brutte nel corso della sua vita però dentro quella cosa là è esattamente l'anestesia che noi rischiamo cioè il fatto di ritenere che le passioni sono spente definitivamente ecco la scommessa che io ho fatto con il manifesto è la scommessa che questo non è vero e che l'Italia si alzerà in piedi combatterà perché sa che quello che abbiamo conquistato ha un valore sa perfettamente che anzi noi non lo abbiamo conquistato lo abbiamo ereditato che è arrivato il momento di guadagnarselo che non c'è nessun partito politico da questo lato che può fare questo lavoro per voi perché è tutto distrutto e tutte macerie e quindi lo possono fare solo i cittadini quelli che credono per la prima volta che l'impegno può cambiare qualcosa e secondo me insomma in questa sala qualcuno ce l'abbiamo grazie grazie grazie